Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo puntato su AI, Franci! Oggi ragazzi non siamo con VT10, non siamo con VT11, siamo con VT12! Ora la faccio vedere un attimino qui, nuovo fiammante, ultima uscita, guardate anche qui nella telecamera sotto, un gioco di carte di Vanguard espansione 12, Forza confinante degli anelli oscuri, il famoso Pt12. Cosa andiamo a cercare qua dentro Franci? Andiamo a cercare i test che userai tu, che sono i Vendicatori. Si, ci sono delle novità, allora, raccontiamola bene. Ritorna di nuovo forte perciò? Paladino Umbra. Paladino Umbra, ok. Novità, oltre che Paladino Umbra che ritorna, una, un nuovo clan. Si. E qual è Franci? Link Joker. Link Joker. Che ora vi facciamo vedere un trial che abbiamo preso. anche lui, vedete? Proprio perché ci interessava fare questo nuovo clan. E questo lo farà Franci e io invece, come potete vedere, mi butterò su il nostro amico. il ritorno. Bene, perciò cosa faremo adesso? Spacchetteremo. E allora a spacchettare. Ecco, questo è il box nuovo, lo andremo ad aprire col mio fido coltellino. coltellino svizzero, più che svizzero, da cucina. Allora, vediamo un po'. Apriamo. E voilà. E' pronto. Vediamo quando apriamo, se sarà pronto per noi il grande box BT12. giriamo questa. E siamo pronti. Allora Franci, tu sai già quello che devi fare, eh? Io cerco di rimanere in... mettiamo in visione senza mettere poco a fuoco. Tu cominci ad aprire. Questo lato di qua, Franci, è il lato mio, questo qua è il lato tuo. Così praticamente facciamo... Questo qui è il lato tuo. Va bene. Dal lato destro, vedete, del pacchetto, della scatola, ci sono quelle di Franci. Dal lato sinistro ci sono le mie. Abbiamo cominciato dal suo lato. Perciò praticamente è una battle. Intanto apriamo le bustine e vediamo. Ok. Vado avanti. Vediamo un po'. Qua troviamo subito. Eccolo. Ora si vede. Irregolare oscuro. Irregolare oscuro, di nuovo. Accordo dell'Inferno. Seguace di Andy. Drago assalto aereo vendicatore. Carbonchio gemma blu eradicatore. Colui che apre i cancelli oscuri. Rara. Link. Joker. Abbiamo già una carta per te Franci. Dai, muoviamoci. Puoi aprirli. Allora. Continua. Io li metto di qua al tuo lato eh. Le mie le metto qua. Allora. Torniamo a noi. Angelo del sveglio vendicatore. Paladino ombra. Sempre paladino ombra. Spimba un vendicatore. Geraint. Liberatore. Nuvoloso. Ebbene sì. Anche oggi qua a Genova è nuvolo. Doka 6. Radicatore della conquista. Torna Narukami. Attenzione. Potremmo salutare il nostro amico Tuberanza che lui fa Narukami. E per finire. Drago. Corazza. Micro. Buco. Sempre Link Joker. Benissimo. Siamo a due rare. Io tanto le sistemo qua così poi riusciamo a vedere il risultato. Lato mio e lato tuo. Ok? Benissimo. Le sistemo così. Ok. Attenzione che qui c'è un pezzettino. Ok. Questa di chi è? Questa è lì. No. L'hai presa di qua. Allora. Andiamo avanti. Fenrir. Esplosione. Gamma. Sempre Link Joker. Acuglio. Catastrofe. Link Joker. Dylan. Vendicatore della malizia. Carbonchio. Gemma Blue. Radicatore. Sempre Narukami. E per finire. Paladino Ombra. Claudas. Vendicatore della prima linea. Quindi i starter li abbiamo già trovati. Allora. Si. Attenzione. Adesso. Metto già questo qua così non perdo il fuoco. Benissimo. E metto questo dal mio lato. Allora. Attenzione. Irregolari Oscuri. Cameriera Psichica. Seguace di Amon. Allora. Questa qui. È bella. Non l'avevo ancora vista. È veramente carina. Forte. Poi la cameriera è comoda. Allora. Rutenium. Starvader. Mitragliatore. Link Joker. Chakau. Vendicatore. Paladinombra. Paladinombra. Bruno. Liberatore delle forti piogge. E per finire. Doppia rare Narukami. Nirti. Erradicatore del ventaglio di ferro. Di nuovo torna Narukami. Perciò. Attenzione. Che si potrebbe. Di nuovo. Ritirare. Fuori. Quel mazzo. E fare. Più forte. Giusto. Tuberanza. Allora. Allora. Paladino dorato. Combattente. Pilastro. Gigante. Yonel. L'assistente della spina d'argento. Cecchino della singolarità. Link Joker. Bello. Carino. E comune. Sempre. Bruno. Liberatore della forte pioggia. Bruno. Smettila di far piovere. Perché qui a Genova. E attenzione. Dietro. Una raretta. Narukami. Cavaliere. Esorcista. Brandisci. Ascia. Turminante. Benissimo. Questo era. Tuo. Questo. Mi sono. Questo uscente. Ok. Allora. Lo metto da te. Continuiamo. Ok. Allora. Vediamo qua. Cerca di alternare bene. Perché vedi che già. Queste sono più alte. Queste sono più basse. Vuol dire che. Qua. Dobbiamo andare avanti. Allora. Drago. Sfera. Gravitazionale. Link Joker. Fenri. Notte Bianca. Link Joker. Anna. Dominatrice di bestie della spina d'argento. Luna pallida. Pinga. Paladino dorato. Angelo della Cornamusa liberatore. Ah. Era questo. Scusate. Angelo. Cornamusa della liberatore. E la larretta. Paladino dorato. Allora. Torniamo a noi. Questo lo mettiamo sempre. Dal lato di Franci. Questo è il mio. Allora. Vediamo un pochettino. Drago. Sfera. Gravitazionale. Soldato e leopardo irregolari oscuri. Link Joker. Acuglio Catastrofe. Molto bello questo. Franci. Dovesse essere contento. Stanno uscendo un sacco di piatti. Doka sei. Radicatore della conquista. Narukami. Tripla rara per me. Tripla rara per me. È un irregolare oscuro. È lui. Amo. Reverse. Marchese. Demoniaco. Arrivano le reverse. Attenzione. Arrivano le reverse. Vediamo un attimino. Tanto la metto da me. Ok. Drago. Corazza. Spada sospesa. Radicatore. Narukami. Bandito. Coniglio. Mannaro. Irregolare oscuro. Paladino ombra. Paladino ombra. Fenice. Ascendente. Narukami. Allora. Questo. Guardate. Questo invece è il mio. Elefantino elegante. Vedete come sono bello carino. Sono un bel elefantino. Se mi metto un po'. A fuoco. Mettere a fuoco un elefante. Eh. Fatto uno spiedo con un elefante. Voglio vedervi a girarlo. Attenzione. Comandante Lunare. Star Vader. Bellissimo questo. Risveglio. Questo è un risveglio fighissimo. Guardate che tuta. Quest'anno mi vestirò da Star Vader per il Luca Comics. Rana Cavaliere. Irregolare oscuri. E Zer Shangen. Castello del mondo demoniaco. Paladino ombra. E dietro. Attenzione. Una raretta. Irregolare oscuri. False Palm. Seguace di Ammon. Allora. Andiamo avanti. Questo andava a me. A me. Perché tu hai questa. Ok hai ragione. Allora. Willy. Annunciatore di un viaggio. Carino Willy. Willy dove vai? Vi annuncio un bel viaggio. Andremo in Giappone assieme? Magari. Allora. Andiamo avanti. Eccoli. Abbiamo perso il fuoco. Arriva. Eccomi. Allora. Nadia. Giocogliere della spina d'argento. Luna pallida. Femir. Artiglio del paradosso. Link Joker. Molto bella. Pink Gal. Ron. Gelin. Seguace di Ammon. Rara. Questa qui. È per me. Nel senso. Nella mia battle. Ma. Come avete già sentito nella intro. Andrà. Francesco. Perché lui. Franci. Vuole fare questo Link Joker. Dylan. Vendicatore della malizia. Stregone. Volpe. Mannara. Heartless. Lama. Innocente. Link Joker. Un'altra comune. Sempre il castello del mondo demoniaco. È orribile. Inquiettante. È staccato. E attenzione. Sotto. Una raretta. Va a Franci. Drago. Ascendente. Spina d'argento. Di luna palida. Arriva l'altra. Pronti. Via. Eccola. Aspettate che riordino un po'. Ok. Benissimo. Unicorno dell'Aurora. Questo è paladino dorato. Rutenium. Sarvader mitragliatore. Molto bella anche questa. Sta dormendo sempre. Perché la maschera. C'è chi direbbe che stacca. Comunque vabbè è seduto ma secondo me non stacca. Sì. E attenzione. Adesso arriva. Collezionista del fatto seguace di Amor. Irregolari oscuri. Irregolari oscuri anche spezza meteore. E arriva la raretta. Dan Dan. Mago esorcista. Ok. Questa andava a? Beh. A me. Comandante lunare Starvader. Link Joker. Irina assistente della spina d'argento. Supporto perfunambolo. Bellino e bestia questo. Oh. Comprate un paio di pantaloni nuovo e una bella baglietta. Va. E poi. Fu. Gangling. Seguace di Amor. Irregolari oscuri. E arriva. Link Joker. Tripla rara. Drago. Schwarzenschild. Mmm. Bellissima questa. Una tripla rara Link Joker. Fra. Sei contento? Bellissima. Questa che andava? A me perché io ce l'ho ancora questa. Ah non hai preso Dan Dan per ultimo? Allora Dan Dan lo prendo io mi sa. Ah eccola qui. Questa è una novità. Trombettiere. Incitatore. Liberatore. Liberatore. Link Joker. Fenerine. Notte bianca. Pescato dell'inferno. Seguace di Amor. Irregolari oscuri. Son Bau. E io son Claudio. Se tu sei Bau. Io son Claudio. E paladino ombra. Via. Maestro del quinto elemento. Doppia rara. Vampiro. Irregolare oscuro. Allora. Dai. Andiamo avanti. Angelo del risveglio. Vendicatore. Paladino ombra. Murron. Liberatore dell'alba. Allora. Murron. Liberatore dell'alba. Mano crudele. Seguace di Amon. Numero del terrore. Regolare oscuro. Attenzione. E sotto. Doppia rara. Una PG. Link Joker. Benissimo. Stiamo andando benissimo con il Link Joker. Eh male con l'inquadratura qui. Perché qui non mette a fuoco. Allora. Questa viene a me. Andiamo avanti. Sì. Perché quell'altra di prima la vi vedo te. Allora. Maestro. Delle pugnali volanti giganti. Questo qui. Non mi piace per niente. C'è sempre qui. Ciupolo. A bestia. E poi arriva. Biscidume. Dimensionale. Io sono. Biscida. Spezza meteore. E arriva. Psycho. Grave. Grave. Seguace di Amon. Irregolari. Oscuri. Questa va a. Te. Trucco dell'inferno. Seguace di Amon. Attenzione. Pescata dell'inferno. Seguace di Amon. Bandito coniglio. Non è di Amon. È del Mannaro. E attenzione. Arriva anche. Pull. Gangling. Seguace di Amon. Tutta una. Una. Come si diceva. Una bustina di. Irregolari scuri. Attenzione che sotto ci sarà. Sempre. No. Luna palida. Grifone. Angelo di fuoco. Una. Ra. Re. Re. Ta. Ra. Re. Ta. Questa va. A. Me. Allora. Questo è. Il castello del mondo. Paladino. Sono. Orribili. Ste carte. Queste. Di. Paladino Ombra. Così. Del castello. Questi palazzi. Orribili. Allora. Per me. Scusate. Poi. Serge. Domatrice. Di bestia. Della spia. D'argento. Bella. Andiamo avanti. Stregone. Volpe. Manare. Regolari. Scuri. E. Sotto. Abbiamo. Una. raretta. Luna. Palida. Lilian. Marionetta. Della spina. D'argento. Arriva di nuovo Fenrir. Allora. Fenrir. Fenrir. Arrivi. Ti metti a fuoco. Si. L'esplosione. Gamma. Muron. Liberatore dell'alba. Drago. Abbagliante. Spina d'argento. Una. Palida. Irregolari. Scuri. E attenzione. Raretta. Unicorno. Coda di polvere. Starfighter. Sempre. Link. Joker. Benissimo. Questa. Veniva. Mi sembra. Ami. Ok. Mettiamoli. Poi vediamo chi vince. Allora. Drago. Scuta fuoco. Spina d'argento. Una. Palida. Esploratrice. Firestar. Unicorno dell'aurora. Ippogrifo volante. E attenzione. E' lui. Drago. Collasso. Gravitazionale. Link. Joker. Di nuovo una carta interessante. Andiamo avanti. A velocità warp. Di nuovo. Questa veniva a te forse. Allora. Drago. Carazza. Spada. Sospesa. Radicatore. Radicator. Rana. Cavaliere. Regolare. Spaladino. Ombra. Soldato. Bianco. Starfighter. Sempre. Link. Joker. Attenzione. Una. Raretta. Narukami. Cavaliere. Esorcista. Brandisci. Martello. Risonante. Questo viene a me. Eccoci. Andiamo avanti. Vediamo di mettere a fuoco questa ragazza. È una ragazza. Si. Cameria. Psiche. Seguace di Amor. Gero. Liberatore nuvoloso. Accordo dell'inferno. Seguace di Amor. Lemole. Link. Joker. E attenzione. Dietro abbiamo una. Raretta. Rokishin. Radicatore della caccia. Narukami. Ogni tanto arriva. Narukami. E ci si piazza lì. Allora. Questo va a te. Ferry. Artiglio del paradosso. Link. Joker. Luna pallida. Natasha. Marionetta della spina d'argento. Castello del mondo demoniaco. Un altro porta edifici. C'ha sulla schiena un edificio che pesa da delle tonnellate. Allora. Lemole. Link. Joker. E attenzione. Raretta. Paladino ombra. Trombettiere. Legame oscuro. Vendicatore. Questo va proprio a me. Ok. Vedete che anche la battle sta andando avanti. Tanto che noi apriamo. Attenzione. E' arrivato di nuovo lui. Che poi sta carta è veramente orribile. Eh. Neanche il telefono non riesce a metterla fuoco. Da quando è brutta. Maestro dei pugnali volanti giganti. Guarda dritto. Grazie. Heartless. Lama innocente. Questa invece è una bella Arthur. Una bellissima carta. Mi piace. Collezionista del fatto seguace di Amon. Ippogrifo volante. E attenzione. C'è una PG. Questa è una PG. Vedete? Vediamo di chi sarà. Doppia rara. E arriva. Irregolare oscuri. Vlad. Specula. Seguace di Amon. Questa andava a? A che andava questa? A te o a me? A te. Attenzione. Soldato Leopardo Manaro. Irregolare oscuri. Allora. Trucco dell'inferno. Seguaci diamo. Combattente. Pilastro Gigante. Nobium. Starvader. Artiglio Furioso. E attenzione dietro. Abbiamo una rara. Che è? Maricica. Maricica. Dominazione delle bestie. La sfida d'argento. Una paga. Molto figa. Molto molto figa. Può continuare sempre dritto. Guardi. Le lascio il mio numero. Questa va a te. Attenzione. Devo recuperare secondo me. Accorda l'inferno. Seguaci diamo. Irregolari oscuri. Paladino ombra. Drago assalto. Angio delle sveglio. Vendicatore Paladino ombra. Link Joker. Sempre l'Antanum. Starvader. Artigo demoniaco. E' sempre lui il personaggio. Comunque. Molto carino. Dietro abbiamo una. Tripla rara. Luna pallida. Che è. Bellissima questa ragazzi. Il look. E' una reverse. Ed è di nuovo. La regina dei draghi. Della spina d'argento. Questa. Mi fa recuperare ragazzi. E' una figata. Della singolarità. Vediamo che arriva. Link Joker. Di nuovo. Cecchino. Della singolarità. Trombettini. Iniziatore. Liberatore. Mano a crudille. Se qua cediamo. Camminatore del funnambulo. E' attenzione. Rara. Orso. Manaro. Mercenario. Orso. Vello figo. Col suo bel gipponetto. Vedete che giacchetta che c'ha. Per uscire la sera. Con i suoi amici. Bene. Questa è una bevetta. Va a Franci. Andiamo avanti. Qui abbiamo. Spinbau. Vendicatore. Gerant. Liberatore nuvoloso. Oggi tra nuvole e pioggia. Cameriera psichica. Se qua cediamo. Gnobium. Gnobium. Che bel nome che c'hai. Vieni qua. Gnobium. Attenzione. Gnobium. Per blink joker. Arriva. Una rovetta. Che è. Palla di nombra. Dorin. Vendicatore. Truppa. Di barriera. Pronti. Questa qui. Andava a te. No. Dopo l'orso a me. Ok. Abbiamo. Viscidume. Che ritorna. Grande. Viscidume. Esploratore. Firestar Mother. Drago. Assalto. Aero. Vendicatore. Arriva di nuovo. Lantanum. Che sottoporta. Un bel. Doppia rara. Doppia rara. Doppia rara. Doppia rara. Che è. I regolari scuri. Dantaria. Re. Delle maschere. Questa qui che andava. A me. A me. Allora. Questa la metto a te. E andiamo avanti. Rutenium. Rutenium. Starvadri. Metallatore. Giacau. Vendicatore. Drago. Sfera gravitazionale. E attenzione. Camminatore. Del funambolo. Lunapalda. E sotto. Porta una rarretta. Che è per me. Leone. Schrodinger. Link. Joker. Era l'ultima questa. Bene. Ora. Verifichiamo i punti. Allora. Ora. Conta. Veloce. Papino. Allora. Qui avevamo. Leone. Schroding. Rara. Doro. Il Vendicatore. Trupa di barriera. E siamo a 2. E con questa reverse. Siamo a tripla rara. Siamo a 5. Siamo a 7. Con Vlad. Specula. Seguaci diamo. 8. Con trombettiere. 9. Con cavaliere. 10. Con unicorno. Attenzione. 10. Con unicorno. Col grifone. Siamo a 11. Che è una rara. Con. Promettion. Siamo a 12. 13. Scusate. Siamo a 12. 12. 13. Siamo a 15. Con il Maestro del Quinto Elemento. Porta la doppia rara. 16. Con. Dan Dan. E. 17. Con. Ron Gangling. E. Tripla. Vado a 20. Con la reverse. Del Marchese. Demoniaco. Claudas. Porta un punto. 21. Drago Carazza. Porta un altro punto. 22. 22. E siamo arrivati da un leone. Vediamo Franci cosa ha combinato. Pronto. Allora. Pronti. Parte con una doppia. Dantaria. 2. Orso Mannaro. 3. Mari Cica. 4. Rock Shin. 5. 6. Con il Drago Colasso. 7. Con Lilia Marenetta. 8. Con Psycho Grave. 11. Perché arrivavano le triple. Drago Ascendente siamo a 12. 13. Fallspun. 14. Fenice Ascendente. 15. Angelo della Corna Musa. 16. Con Cavaliere Esorcista. 17. 18. Con Nirti. 19. Con quello dei Cancelli. 20. 21. Con Dantarian. No. Attenzione. Dantarian era già al primo. Siamo a 22. A 21. Questa. Manche la vince Pappino. E speriamo che queste carte vi siano piaciute. Certo è che Link Joker ne ha tante dentro. Hai qualche impressione da dire ai nostri amici? Sì. Bene. Vedete anche i polizionali su? No. Impressioni sul mazzo. Impressioni credo che me lo farò molto presto. Questa è una bella impressione. Più un desiderio che... Allora. Io ho questa impressione invece che sia un mazzo molto divertente. questo Link Joker. Ho l'impressione che i mazzi vecchi ritorneranno di nuovo in auge. Perciò andateli a prendere. E... Niente. Vanguard è un gioco che continuerà a stupirci. Continua a portare novità. E questo è una cosa bella. Perciò. Giocata Vanguard. Con gli amici, con il vostro papà, con chi siete. Noi domenica andremo a giocare dagli spammers che sono sempre... Diciamo sempre che organizzano tornei, sempre scontri e tutto. Andremo al negozio. Che si chiama? Dungeon Store. Dungeon Store di Genova. E... Lì... Abbiamo un sacco di amici e giocheremo con questi nuovi mazzi. Anzi, io vado là per farmeli spiegare come si usano e tutto. Un saluto. Ne approfittiamo per ringraziare questi ragazzi che ci aiutano sempre a capire tutto. Perciò... Ragazzi continuate così che siete forti. Un saluto a tutti. A Giulia. A Morgan. Ad Andrea che organizza sempre. Si fa un mazzo ragazzi, sto ragazzo. E niente. Seremo sempre lì con voi. Con tutti voi che ci seguite anche sul nostro canale. Un saluto da Papino. Tanti. E ciao. Ciao.